Ecco a voi Miles Davis, una delle più importanti personalità del jazz del ventesimo secolo. Facciamo una domanda a Miles, cosa pensa lei delle jam session al giorno d'oggi? Ma penso che le jam session al giorno d'oggi sono solo per culi bianchi, l'unica jam che si salva penso sia quella all'Equovar, domenica 13 giugno.